Ciao a tutti, siete alla fame? La crisi di morde? Una soluzione potrebbe essere quella, oltre che mettere fiori sul balcone, adesso che sta per arrivare la primavera, mettere degli ortaggi. La soluzione più semplice è prendere un vaso come questo, sarà 50 cm, riempirlo di terriccio buono. Una volta riempito si schiaccia un pochino. In modo che ci sia lo spazio per l'acqua. Poi prendete dell'insalata, in questo caso è canasta, insalata canasta, però potete mettere qualunque tipo di insalata. Su 50 cm direi che ne potete mettere 4, fate un buco. Due. 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 Silipe allo un po. basta, si bagna e fra 10 giorni quando vedete che si sta riprendendo iniziate a concimarla con concime possibilmente organico e anche un pochino chimico o se no potete mettere solo dello stallatico, uno strato superficiale di stallato vedrete che nel giro di un paio di mesi, poi dipende dalle condizioni climatiche se viene più o meno caldo potrete consumare le vostre piantine di insalata ciao a tutti